Ti sbagli. Scusa? Non c'è tempo da perdere. Si viene colpiti dai fulmini, si muore. Hanno sparato al mio migliore amico, Torres. Perché mi dici di darle del tempo quando non c'è alcuna garanzia che avrò quel tempo? Io... Io non voglio più aspettare per essere felice. Senti, questa è una cosa che tu e io facciamo. Saltiamo i passaggi, ok? Io ho spinto Arizona ad avere un figlio e stavo per perderla, perché ho saltato troppi passaggi. Ma poi ho fatto marcia indietro e ora lei viene a vivere con me. E mi rovina l'appartamento. Io dico solo che potrebbe essere troppo chiederle di sposarti, soprattutto se non è in sé ora. Io so chi è lei. E se sta attraversando un brutto momento, voglio poterle stare vicino. Mi rende felice come nessun'altra cosa al mondo. E se posso fare qualcosa perché lei sia di nuovo felice, non voglio fare nient'altro. Non voglio fare nient'altro per il resto della mia vita. D'accordo. Allora corri. Corri a dirglielo. Ma diglielo così. Ciao. Grazie a tutti.